Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. All'evento Apple di marzo non sono stati presentati solo iPhone SE e iPad Pro da 9,7 pollici, ma sono stati presentati anche interessanti aggiornamenti per Apple Watch. Non solo il prezzo di Apple Watch è stato ridotto nella versione Sport, ma sono arrivati anche alcuni nuovi cinturini. In particolare il cinturino in nylon, molto carino che ho qui con me e che andremo a vedere dopo, nuovi cinturini Sport e la maglia milanese nera che è spettacolare ma non ho purtroppo qui con me e anche diversi colori per i cinturini in pelle. Ma appunto qui con me ho il nuovo cinturino Sport in uno dei colori secondo me più belli in lilla, molto elegante, non solo sportivo, molto elegante anche e poi questo cinturino tutto nuovo, il cinturino in nylon. Quindi andiamo a scoprirli insieme. Allora ragazzi eccoci qui, abbiamo rispettivamente Apple Watch, versione da 42 mm in acciaio e questi cinturini se vogliamo per la versione in acciaio non dico che non siano consigliati, però sono quelli che probabilmente sono più pensati per la serie Sport. Per carità si può fare sport anche con questo, io lo faccio, non a caso ho qui un cinturino Sport che ho utilizzato in tutti questi mesi di Apple Watch. Tra l'altro ce l'ho qui non solo per contesto ma anche per farvi vedere insomma che è invecchiato davvero benissimo. Certo c'è qualche alone perché l'ho usato anche in palestra mentre correvo, però nel complesso insomma è ancora bianco, non è diventato giallo o marrone o nero come molti sostenevano. Allora andiamo proprio a vedere prima il cinturino Sport. Questo è uno dei nuovi cinturini Sport in versione Lilla, abbiamo visto già un po' di mesi fa che Apple aveva annunciato o meglio aveva portato in alcuni eventi dei cinturini Sport con colorazioni diverse ma adesso finalmente sono arrivati sul mercato. Tra cui appunto questa versione in Lilla che adesso vado a montare sull'Apple Watch e che vi voglio dire due cose su questo cinturino. Non solo il fatto che secondo me è uno dei colori più eleganti per la serie Sport, sta non solo benissimo sul modello Watch così in acciaio ma sicuramente sta anche bene sulla serie Sport. Ma ragazzi è bello, a me piace come colore, mi sembra molto elegante, si può mettere sicuramente sotto anche qualche camicia. Decisamente meno giocherellone come colore rispetto ai primi cinturini di Apple Watch pensati proprio per chi faceva Sport. E l'altro dato, però qui potrebbe essere solo un'impressione, però boh è così, al tatto, questo qui sicuramente è stato usato, questo l'ho usato pochissimo ancora perché appunto me lo voglio preservare così, non voglio fare Sport con questo cinturino come ho fatto con quello bianco, ma al tatto mi sembra non solo più morbido, non solo più flessibile, ma proprio di qualità leggermente superiore. Sicuramente sarà un'impressione dettata dal fatto che appunto il cinturino non è stato utilizzato, però secondo me è uno dei cinturini Sport più belli che ci siano al momento e lo vedo veramente bene anche con i modelli Watch e se avete un Watch Edition anche con il Watch Edition. Allora rimettiamo il pin così lo fermo qui vicino a me e andiamo a vedere invece il ben più interessante perché alla fine l'unica novità è il nuovo cinturino in nylon intrecciato. Questo qui è lo scuba blu, si chiama così questo modello perché ha questo colore chiaramente tendente al blu con qualche intreccio invece un po' più chiaro. In questo caso a differenza dei modelli Sport non abbiamo due cinturini per quanto riguarda questa parte, ma è un cinturino universale. Andiamo a montare, come potete notare una piccola differenza qui è il fatto che l'aggancio su questo cinturino, ci si poteva aspettare magari un aggancio in tinta con l'Apple Watch, ma non è così, è un aggancio che riprende il colore dello stesso cinturino. Quindi andiamo a montare appunto il cinturino, si aggancia come al solito molto bene tramite il magnete. Cinturino vedete è molto carino ma anche molto spesso, non sembrava così spesso nelle immagini sul sito Apple. Abbiamo tantissimi pin qui per fissare il cinturino con l'aggancio standard che ricorda quello dei cinturini in pelle di Apple ma che non è come i cinturini in pelle perché appunto sui cinturini in pelle lo troviamo fatto in acciaio, mentre qui credo e sono quasi sicuro che sia in alluminio se non in plastica. Questo montarlo con una mano è un po' difficile, vediamo se ci riesco altrimenti mi aiuto con la seconda un attimo. Eccomi qui, allora vado a fissare in questo modo il cinturino, c'è il passante, lo aggiustiamo per bene e ragazzi un cinturino che a me piace davvero tanto, come colore è quello che preferisco dei nuovi cinturini in nylon sinceramente perché credo che stia comunque piuttosto bene con il mio Apple Watch in acciaio. Veramente bello, poi è molto traspirante devo dire, non stringe al polso e nel complesso mi sembra comunque un'ottima soluzione primaverile soprattutto se avete un Apple Watch Sport, ma anche con un Apple Watch appunto si comporta davvero bene. Ci sono diversi colori, devo dire che nella serie nylon molti colori tendono più al femminile secondo il mio punto di vista questo e quello nero sono gli unici forse un po' più maschili, però c'è già una buona selezione non come quella dei modelli sport che sono ormai tantissimi, ma questa è la vera novità della primavera e secondo me è un cinturino che merita appunto perché è diverso rispetto ai precedenti traspirante e poi dà anche un look un po' diverso all'Apple Watch perché vedete è un po' più stretto in questa parte rispetto al cinturino sport, si allarga meno in questa zona e quindi fa sembrare l'Apple Watch non dico più sottile ma almeno per quanto riguarda il cinturino sembra un po' più sottile e un po' più cicciotto invece appunto l'Apple Watch stesso. Se volete comprare uno di questi cinturini che abbiamo visto sono tutti disponibili alla stessa cifra 59,90, 59,90 chiaramente anche questo è uno sport 59,90 li trovate già da ora disponibili su Apple Store online per questi qui al momento della registrazione di questo video c'è un po' di attesa si parla di una, due, tre settimane a seconda dei modelli mentre i cinturini sport invece vengono spediti con più rapidità. Bene ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ve ne pare di questi nuovi cinturini e se vi è piaciuto il video lasciate un bel like e iscrivetevi al canale mi raccomando perché adesso in descrizione trovate anche il nostro nuovo canale Telegram dove potete iscrivervi per ricevere le news flash o per comunicazioni importanti e anteprime. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com Grazie Grazie a tutti.